Tu fai parte di una realtà importantissima in Italia che è H-Farm, che differenza c'è fra Team Working Capital e H-Farm? Qual è la differenza? Siete un acceleratore anche voi? Sì, allora diciamo che H-Farm nasce come incubatore, come acceleratore di start-up ormai dieci anni fa, per cui uno dei primi a livello mondiale su questo settore. Diciamo che negli ultimi anni H-Farm si è evoluta molto, si è trasformata molto e oggi quello che possiamo dire è che l'accelerazione delle start-up è uno degli aspetti importanti di Pharma, ma non è più il solo. Diciamo che Pharma ha intrapreso negli ultimi due anni un profondo percorso di cambiamento che l'ha portata a essere una vera e propria piattaforma digitale che può interpretare quello che è appunto il cambiamento che il digitale sta portando sotto ogni aspetto della nostra vita, partendo da, riferendosi naturalmente al mondo delle aziende, per cui guardando con molta attenzione a quello che è la trasformazione digitale che le aziende italiane in modo particolare devono affrontare per rimanere competitivi nel mercato di oggi e allo stesso tempo appunto continuare a favorire la nascita di nuove imprese nel mondo digitale attraverso appunto programmi di accelerazione. Ecco scusa se ti interrompo, quando parli di trasformazione digitale cosa intendi? Immagino un'azienda manifatturiera italiana che produce dei manufatti, come fa a trasformarsi in azienda digitale? Allora, questo è appunto la sfida che noi lanciamo a tutti quanti e diciamo che il digitale oggi è una, mentre diciamo un po' di tempo fa, un po' di anni fa poteva essere definito un ambito, oggi il digitale è un aspetto che pervade praticamente ogni ambito dell'aspetto aziendale, dalla gestione dei clienti, dalla vendita, dalla gestione di un magazzino dal marketing naturalmente, per cui è proprio diventato qualcosa di pervasivo all'interno della vita di ogni aspetto dell'azienda. La parte molto interessante che è quella di cui, diciamo più legata al mondo che mette assieme appunto questa trasformazione digitale dell'azienda, le start-up, è quello in cui in particolare mi occupo io che sono i programmi di corporate acceleration, ossia è una cosa che abbiamo iniziato all'inizio di quest'anno per cui stiamo maturando, stiamo finendo il primo anno e siamo molto soddisfatti delle cose fatte quest'anno ossia sono programmi specifici e fatti per aziende che vogliono innovare, vogliono trasformarsi digitalmente come, per rispondere alla domanda, investendo, quindi mettendo soldi, capitali, competenze in realtà esterne, quindi start-up esterne, che vengono al di fuori dalla realtà aziendale connesse con quello che è il proprio core business, dove l'idea non è soltanto quella di un investimento per massimizzare il profitto, ma quello di un investimento in realtà che possono essere affini, che possono valorizzare asset inespressi dell'azienda, che possono fare talent acquisition perché naturalmente è una fonte di attrattiva molto interessante per tutti quanti i ragazzi che vogliono spendersi e innovare e proporre progetti innovativi in un determinato settore e quello che fa Pharma è quello di offrire la piattaforma, ossia noi ci offriamo come interlocutore per un'azienda che vuole innovare investendo in start-up dicendo noi quello che riusciamo a fare è assieme a te scegliamo il settore, andiamo a cercare il livello globale, quindi mondiale le migliori iniziative di start-up sul tuo settore, te le presentiamo assieme a te, le selezioniamo e ce le prendiamo noi carico e le acceleriamo, è da qui acceleratore di start-up le acceleriamo vuol dire che li mettiamo in contatto con tutta quanto una serie di mentori come dicevamo prima, di persone che gli possono aiutare in quelle che sono le fasi cruciali, iniziali di una nuova azienda, il marketing, la protezione delle proprietà intellettuali, l'organizzazione interna come fare hiring di nuove persone, come fare fundraising e in questo modo le acceleriamo per poi restituirle all'azienda che insieme a noi le ha cercate. Benedetto, quali sono i riscontri in questo momento? Allora, i riscontri sono diversi, diciamo che noi siamo convinti che questa sia la direzione in cui il settore di cui ci occupiamo debba volgere perché veniamo da una realtà, siamo all'interno di una realtà dove appunto l'innovazione diciamo è sempre stata collegata a quello che è il mondo aziendale mentre appunto esistono altri ecosistemi dove l'innovazione è trainata più dal capitale, immagino l'America ma non solo, per cui quello che noi pensiamo, il riscontro che abbiamo è che il connubio con piattaforme come può essere Pharma, come può essere WCAP e aziende che vogliono innovare sia un perfetto matching per portare l'innovazione, quindi ragazzi start up con idee giovani e fresche in contatto con aziende che possono veramente valorizzarle e veramente dargli una marcia in più per essere competitive. Marco, quanto le start up in questo momento dalla tua esperienza si riferiscono al made in Italy e cioè voglio dire a quelle che sono sempre con una logica, con un valore di innovazione chiaramente nostro asse portante produttivo perché voglio dire c'è stato recente passato anche un po' una confusione da parte di questi ragazzi perché si riferivano dei modelli che sicuramente non erano i nostri tralasciando un po' quello che è il valore appunto economico produttivo che parte dai territori del nostro paese. Ecco intanto si è superato questo problema e adesso le start up sono orientate a valorizzare in termini innovativi ovviamente il nostro prodotto e la nostra capacità produttiva per rendere più attrattiva e più competitiva il nostro made in Italy oppure siamo lontani da questo ancora? Ma diciamo è molto difficile generalizzare in quanto comunque le start up di maggiore successo hanno una prospettiva sicuramente che va oltre i confini nazionali però quando noi intercettiamo un team in generale gli chiediamo qual è il problema che vogliono risolvere e da questo punto di vista l'Italia offre tantissime possibilità perché i problemi non mancano. Cerchiamo di non dimenticarci che praticamente anche se siamo molto spinti verso l'innovazione e verso il futuro non dobbiamo lasciarci indietro nessuno quindi probabilmente molte delle aziende di successo di piccole e medie dimensioni avrebbero un gran bisogno di entrare più spesso in contatto con una start up e recepire le loro soluzioni non solo delle aziende di grande dimensione come quella di cui faccio parte. Io ho visto, insomma girando un po' l'Italia e promuovendo anche la nostra call che diciamo c'è bisogno di un grande percorso profondo di alfabetizzazione digitale in alcuni casi abbiamo valorizzato anche dei progetti che valorizzassero, che dessero un supporto all'artigiano, al piccolo artigiano di Bologna come faccio l'esempio di un team Efesti per mettere in rete una serie di botteghe che non riescono a raggiungere i clienti di altre città o addirittura all'estero. Gli artigiani digitali. Gli artigiani digitali. Questi team chiaramente devono trovare delle soluzioni diverse da quelle che potrebbe sviluppare il cugino Vincenzo con un sito a 500 euro o cose di questo genere. Quindi ci deve essere comunque un aspetto innovativo o devono essere disposti a virare verso quell'aspetto innovativo che noi ci aspettiamo che individuino dopo il percorso di accelerazione. Secondo me il Made in Italy va sicuramente valorizzato e è un'informazione che va data ai giovani che sono qui in questi giorni. Mi sembra che abbiano già abbastanza chiaro questa cosa. Ci sono delle caratteristiche che noi non possiamo perdere lungo il percorso dell'innovazione, cioè sono quelle che poi ci renderanno vincenti. Il punto di incontro fra l'innovazione e la tradizione a volte in questo momento spesso ci tiene troppo vicini alla tradizione. E quindi se non abbiamo innovato ancora tanto determinati settori probabilmente perché le aziende tradizionali sono poco permeabili all'innovazione, sono meno permeabili di quanto dovrebbero essere. Quindi dovrebbero dare più fiducia alle soluzioni che poi noi gli proponiamo. E questo lo facciamo attraverso delle associazioni, dalla ConfCommercio, CNA per fare degli esempi, o quelle più attive sul territorio. cerchiamo di presentare i progetti e di fare in modo che insieme a loro si costruiscono i progetti. Queste associazioni che a volte sono un po' incasellate... Io devo dire, venendo anche da Roma, che è comunque una realtà più legata al terziario, più difficile da avvicinare in certi casi, però qui a Bologna ho trovato una grandissima disponibilità, un grandissimo interesse. Noi siamo in una zona centrale come acceleratore e attraverso quella porta spesso entrano persone che ci propongono di fare qualcosa insieme. Quindi non siamo neanche così noi quelli che dobbiamo forzare rispetto alle vecchie abitudini. C'è curiosità, c'è interesse, i casi di collaborazione sono numerosi. Sicuramente Bologna, l'Emilia Romagna, Lombardia, il Veneto... Sì, c'è una tradizione, c'è un approccio, diciamo, che poi bisognerebbe cercare di estendere. Sud Italia, e questo lo chiedo a te Benedetto, quanto è diffusa la cultura della digitalizzazione? In realtà questo poi forse è un problema anche di tutto il paese, perché insomma ricordiamo che il nostro paese, la struttura produttiva del nostro paese è formata al 90% da piccole e medie imprese, alcune di queste, tra l'altro, padronali, quindi resistenti al cambiamento. Allora, quanto e come deve avvenire la diffusione, secondo te Benedetto, della cultura digitale, proprio per rivalorizzare, rimettere in campo, in circuito il valore del Made in Italy nel mondo? Anche qui generalizzare, come dicevamo prima, è molto difficile. E da un lato, mi viene da dire che ci sono vari aspetti, prima di tutto sarà una necessità per tutti, nel senso che in un modo o nell'altro ci si dovrà scontrare con questa cosa, cioè è abbastanza inevitabile che presto o tardi anche l'ultima realtà artigianale del luogo più remoto d'Italia dovrà scontrarci con questo tipo di opportunità, più che di problematica, e quindi farci conti. C'è un fortissimo, quello che io dico, secondo me, fa essere sereni da questo punto di vista, è che sta venendo su una generazione che è sicuramente ultraconsapevole. Per cui l'evento come quello che facciamo qui oggi a Bologna dello Startup Weekend, ma venendo da Pharma, noi anche in questo momento stiamo facendo un grosso evento con una grossa azienda del fashion in Pharma, dove sono presenti più di 300 ragazzi da tutta Italia, ce ne sono decine contemporaneamente sparsi in tutto quanto il territorio italiano dove la partecipazione è sempre straordinaria. Per cui diciamo che verrà su una generazione di persone che questa problematica e questa opportunità ce l'ha ben chiara e questo qui fa restare abbastanza sereni rispetto che ci arriveremo presto anche noi. Altro tema è il problema dell'infrastruttura. Da questo punto di vista qui è un tema che penso che né noi né le aziende possano risolvere, ma deve risolvere appunto lo Stato e da questo punto di vista naturalmente... E siamo un po' indietro mi pare. Sì, da questo punto di vista sì, c'è un problema proprio strutturale di possibilità di accesso a certe risorse per cui si parla tantissimo adesso anche nell'agenda di questo governo, della banda larga come di tutti quanti i governi, anche precedenti, perché appunto questa è una questione che deve essere risolta. È una questione vitale sicuramente. È una questione vitale, sì, è abbastanza... Quindi posso solo aggiungere la cosa che io recentemente sono rimasto impressionato da un dato che riguarda la nostra attività, diciamo, di telecom, che appunto installa 180 km all'ora di fibra ogni ora. Allora, io dico, se noi improvvisamente... Ho provato a fare un po' questo esercizio, diciamo, mentale, se improvvisamente in tutte le case arrivasse la fibra, che cosa ci faremo con questa fibra? Cioè, diciamo, non avremo più l'alibi, ma probabilmente molte aziende non sarebbero in grado di trasformarsi e verrebbero spazzate via da quello che passerebbe attraverso questa fibra. Quindi bisogna anche affrettarsi a conquistare una casa alla volta, una scuola alla volta, una persona alla volta, e portarle, diciamo, su un tema di alfabetizzazione digitale che è quello più urgente. E forse, diciamo, forse riusciremo a mantenere una posizione che riguarda poi le nostre tradizioni, la nostra competitività. Quindi, prima cosa, mi sembra di capire che bisogna accelerare la digitalizzazione nel paese. Sì, non bisogna assolutamente lasciare indietro nessuno, assolutamente. E l'altra cosa, io credo, ecco, voi oggi mi fate portare a casa una cosa estremamente importante e confortante. E cioè, ci troviamo in un periodo molto particolare, no? Per i giovani, sapete benissimo che, insomma, i giovani non è che se la passino proprio così bene. Siamo al 39% di disoccupazione. In Italia io lo sto ripetendo più volte, no? Perché è bene che questa cosa venga fuori in maniera assolutamente chiara. E allora, oggi i giovani hanno una prospettiva straordinaria, assolutamente in quello che avete detto voi. E cioè, i giovani che si apprestano a mettere in pratica la loro idea propedeutica all'innovazione della piccola e media imprese del paese rappresentano la vera opportunità di ricambio generazionale di questa piccola e media impresa che, altrimenti, morirebbe di vecchiaia. Giusto? Giustissimo. Accordissimo. E con questa riflessione lasciamo i nostri telespettatori e ringraziamo tutti e vi ringrazio. Grazie. Alla prossima, a domani.